Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale La Guardia di Finanza di Ancona scopre un maxi riciclaggio di denaro coinvolte 90 società, 12 persone arrestate Semaforo verde sulla viabilità di Metauriglia a Fanno il comitato soddisfatto dopo l'ultimo incontro con il sindaco di Mondolfo Centro Alzheimer Margherita, anche il sindaco di Coglie al Metauro Stefano Guzzi stanzierà un contributo per la riapertura Spiaggia del Turista, arriva il no del comitato spiagge libere Fanno contrario alla proposta di Cecchiello Matteo Salvini ritorna nelle Marche, leader della Lega Pesaro per la campagna elettorale Viva Pesaro, viva le Marche, viva la Lega e viva l'Italia e la libertà Grazie di bene Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Apriamo con l'operazione della Guardia di Finanza di Ancona che ha scoperto un maxiriciclaggio da 130 milioni di euro In tutto sono state scoperte 90 società coinvolte Sono 12 le persone finite agli arresti 9 di queste sono in carcere Francesco Salvago Dalle prime ore della mattinata oltre 200 finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Ancona hanno dato esecuzione a 12 ordinanze di applicazione della misura di custodia cautelare di cui 9 in carcere messe dal GIP presso il Tribunale di Ancona di soggetti indagati unitamente a ben oltre 132 persone per i reati di associazione per delinquere bancorotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio Il provvedimento è scaturito da un'ampia attività di indagine denominata Operazione Background partita nel 2017 era caratterizzata da un ingente flusso di denaro trabasato da conti correnti bancari o postali riferibili a società di capitali su sopporti bancari riconducibili a persone fisiche e titolari di ditte individuali che provvedevano contestualmente per importi pari agli accrediti ricevuti al prelievo in contanti Le complesse indagini sviluppate, tra l'altro mediante l'esecuzione di attività tecniche attraverso l'analisi di migliaia di flussi finanziari hanno consentito di acquisire concreti elementi circa l'esistenza di un'associazione per delinquere radicata quantomeno dal 2014 in tutta la regione Marche che ha gestito di fatto 90 aziende tra società di capitali e imprese individuali attraverso le quali sono state emesse fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di circa 130 milioni di euro oggetto di specifici approfondimenti finanziari a favori di clienti operanti in numerose regioni tra le quali Lazio, Veneto, Campania, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo oltre naturalmente le marche solo grazie all'intervento odierno dei finanzieri tale progetto criminale non ha avuto concreta realizzazione uno dei filoni della complessa operazione di servizio nell'ambito della quale sono state eseguite le tracce di ben 130 milioni di euro riguarda in particolare le condotte penalmente rilevanti di bancorotta o fraudolenta derivanti dal fallimento di sette società operanti nel settore commerciale delle pelli e delle materie plastiche con sede nelle Marche, in Emilia-Romagna, nel Lazio e in Lombardia utilizzate dal sodalizio i fondi incassati da queste ultime a fronte delle emissioni di fatture per operazioni inesistenti sono stati progressivamente distratti a favore di altre ditte individuali inentestate a prestanome lasciando le stesse prive delle risorse economiche necessarie per assolvere gli obblighi tributari e quindi abbandonate dopo essere state utilizzate per un ristretto arco temporale tali fatti sono oggetto di specifico delle misure cautelari eseguite in data odierna la somma distratta dalla società fallite ammonta complessivi 15 milioni e mezzo di euro mentre ammonta complessivi 26 milioni di euro l'ammontare di denaro riciclato il comitato Noifano Sud ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni per quanto riguarda la viabilità della statale adriatica Metauriglia dopo l'appello rivolto ai sindaci incontro utile quello tra il sindaco di Mondolfo e i rappresentanti del comitato Noi di Fano Sud durante il quale è stata condivisa la necessità di una viabilità alternativa all'attuale strada statale adriatica 16 una strada congestionata dal traffico anche con mezzi pesanti che presenta un elevato tasso di incidentalità la criticità della viabilità sono state oggetto in queste settimane di una manifestazione pacifica attraverso l'esposizione da parte dei cittadini di teli rossi davanti alle proprie abitazioni il comitato aveva chiesto esplicitamente ai nostri microfoni un incontro con le parti istituzionali dei comuni per discutere la possibilità di un'eventuale alternativa che possa alleggerire e mettere in sicurezza la viabilità attuale è stato un incontro secondo me molto proficuo e poi proprio risolutivo per quello che noi stiamo chiedendo un progetto di una complanare che dalla rotatoria di Tombaccia si congiunga alla bretella che già Mondolfo ha costruito ai tempi della terza corsia dell'autostrada ed è l'opera che noi chiediamo perché consente di alleggerire il traffico pesante e veloce di questa strada nazionale di declassare questa nazionale in strada comunale in modo che si possano eseguire delle opere di riqualificazione tipo intubare i fossi creare una pista pedonale creare se vogliamo anche un arredo fare delle rotatorie che consentono quindi lo stesso una viabilità migliore in modo che il turista che arriva e anche noi che ci viviamo soprattutto anche ha una vivibilità all'incontro sono intervenuti i rappresentanti dei comuni chiamati in causa tra cui anche il sindaco di Mondolfo è stato un incontro molto utile sono contento che hanno interpellato anche noi del comune di Mondolfo anche perché questa opera è un'opera importante un'opera importante per il comune di Mondolfo per il comune di San Costanzo e per il comune di Fano un collegamento che è rimasto incompiuto qui siamo nella complanare di Marotta che non è mai proseguita per San Costanzo e per Fano a nostro avviso questo progetto deve essere ripreso dalle istituzioni che devono prendere in seria considerazione i problemi che ha la strada statale i problemi sollevati anche dal comitato per rendere più vivibile più sicuri i centri abitati di Marotta di Ponte Sasso di Torretta e Metauriglia che sono anche delle località turistiche e quindi bisogna anche puntare sullo sviluppo turistico migliorandone la viabilità Quali saranno sindaco gli sviluppi? Adesso mi sentirò presto con gli altri sindaci il sindaco di San Costanzo e il sindaco di Fano perché questo percorso ritengo che deve essere fatto assieme perché fatto assieme porta poi a un maggiore risultato quindi li contatterò presto Una problematica in sospeso che preme i residenti della zona oltre alla sicurezza della viabilità e la mancata visibilità di missione sulla statale e dalle strade secondarie dove spesso sostano veicoli ostruendo il campo visivo nel dare precedenza Le macchine per mancanza di garage non so per quale motivo comunque parcheggiano su entrambi i lati noi non abbiamo visibilità quando usciamo dalla strada privata e molte volte si è dovuto frenare giusto in tempo perché giustamente è pericoloso e ci sono stati anche degli incidenti là anche a volte fermano persino dei mezzi dei tipo furgoncini queste cose qui che proprio praticamente ti tolgono la visibilità in tutte e due le direzioni dicono che lì è di vieto di sosta però i cartelli io non ne vedo i vigili urbani non è che fanno molte multe però non essendoci un cartello logicamente le persone si sostano abbiamo fatto molte volte segnalazioni al comune ai vigili urbani però non c'è stata mai né una risposta né in positivo né in negativo non lo so per quale motivo però qua è veramente impraticabile Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati nelle Marche due casi di positività al coronavirus rilevati in provincia di Peso Urbino su 189 tamponi del percorso nuove diagnosi lo dice il bollettino di aggiornamento quotidiano del Gores che dà conto di complessivi 287 campioni analizzati tra i quali 189 nuove diagnosi e 98 test nel percorso guariti Il primo paziente trattato con il plasma nella regione Marche è fuori pericolo nella giornata di oggi è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva al reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Marche Nord Il 14 luglio scorso il paziente è 67 anni è stato spostato dal reparto di malattie infettive a quello di terapia intensiva perché le sue condizioni si erano aggravate a seguito di una polmonite interstiziale da covid con gli organi compromessi in particolare i polmoni come prevedono i nuovi protocolli spiega il primario di terapia intensiva di Marche Nord Michele Tempesta il paziente non è stato intubato e abbiamo deciso di somministrargli il plasma iperimmune già dal giorno successivo a questa somministrazione ne sono seguite altre due il 17 luglio e il 19 dopo i primi giorni in cui il paziente si è dimostrato stabile dopo una settimana è sensibilmente migliorato fino ad essere fuori pericolo un percorso che ci dà molte speranze conclude Se sarà necessario anche il comune di Colle al Metauro stanzierà un contributo per far riaprire il centro Alzheimer Margherita lo assicura il primo cittadino Stefano Aguzzi che replica l'intervista e all'appello lanciato su Fano TV dal sindaco di Fano Massimo Seri Simona Zonghetti Lasciatemi dire anche questo ho sentito colleghi che sono intervenuti in questi giorni e li ringrazio perché hanno fatto bene magari alle parole chiedo anche di accompagnarli con gesti concreti come quelli che stiamo facendo noi in queste ore Con queste parole il sindaco di Fano Massimo Seri si era rivolto in particolare al collega di Colle al Metauro sul tema del centro Alzheimer Margherita Aguzzi giorni prima aveva lanciato un appello alla regione Marche affinché venissero istituiti sia un fondo straordinario per permettere alla struttura di riaprire sia un assessorato alle politiche sociali ad oggi mancante sentita poi l'intervista di serie andata in onda nel nostro telegiornale venerdì scorso Aguzzi ha deciso di mettere in chiaro la sua posizione assicurando un contributo del comune qualora ce ne fosse bisogno non ho nulla da rispondere a Massimo Seri io casomai posso rispondere a qualche mio concittadino di Colle al Metauro che so che fruisce del centro Margherita e che come tante altre famiglie che fruiscono di quel centro oggi sono in difficoltà quindi se c'è la volontà anche di altri comuni di dare anche cifre in maniera tra virgolette eccezionale perché dico eccezionale nel senso non sta ai comuni mantenere un'attività che è legata alla regione e all'attività sanitaria però se in questo momento di difficoltà possa servire e può servire anche un contributo da parte di alcuni comuni per poter incentivare e affrettare la riapertura di quel centro e consentirli di ripartire nell'attività non c'è proprio assolutamente alcun problema anzi voglio informarmi con esattezza quanti siano i cittadini di Colle al Metauro che lo frequentano per rapportare poi alla cifra che metterà Fano anche un'eventuale cifra che metterà Colle al Metauro Un intervento al cervello da sveglia su una ragazza di 14 anni affiancata dalla mamma in sala operatoria per un supporto psicologico durante l'asportazione di un'area interessata da una lesione all'origine di crisi epilettiche è un'operazione raramente usata in ambito pediatrico una delle prime in Italia quella eseguita oggi durata in tutto 5 ore con esito positivo nel blocco operatorio dell'ospedale Salesi Ospedali Riuniti di Ancona in campo un'equip multidisciplinare che in parte ha lavorato in fase preoperatoria per preparare mamma e figlia ad affrontare la procedura in parte in fase intraoperatoria col supporto di tecnologie avanzate per definire l'area del cervello in questione e sorvegliare le funzioni neurologiche della giovane durante la resezione della lesione epilettogena la chirurgia da svegli consente di individuare meglio l'area da asportare e minimizzare i rischi di complicazioni funzionali spiaggia del turista dopo la proposta di alberghi consorziati di istituire una spiaggia per fronteggiare la carenza di ombrelloni ai nostri microfoni è intervenuto un rappresentante del comitato spiagge libere che dice no alla proposta sul tema della spiaggia del turista annunciata nei giorni scorsi dal presidente degli alberghi consorziati per fronteggiare la carenza di ombrelloni disponibili per turisti rivolgendo a comune regione la possibilità di eventuali permessi alle concessioni riservando una quota delle spiagge agli albergatori non è piaciuta al comitato spiagge libere di Fano di cui tramite il rappresentante si mostrano preoccupati di eventuali modifiche alla delibera regionale sulle possibili concessioni a terzi il comitato è deciso ad affermare un no alle recenti richieste di utilizzo esclusivo di parte della spiaggia libera di Sassonia eravamo tranquillamente in pace come comitato perché da ormai oltre un decennio lo status quo era garantito adesso con questa iniziativa anche alberghi consorziati che vorrebbe una gestione anche stagionale noi siamo un pochino prevenuti perché secondo noi è il solito tentativo di cercare di porre una testa di ponte per perpetuare praticamente questa situazione di gestione poi nel tempo e quindi siamo allertati come noi dovrebbe essere allertato ogni cittadino che fruisce di spiaggia libera soprattutto in questi tempi in cui il valore della moneta per tanta gente è venuto meno e quindi a maggior ragione soprattutto quest'anno si pone la necessità di mantenere questa fruibilità pubblica che salvaguardia anche in questo senso quella che è la scarsa moneta che circola in tasca tanta gente nel tratto appetito esiste esiste già un gestore di attrezzature mobili che vengono fornite alla gente a noleggio per cui la spiaggia libera è bellissima da vedere la sera perché torna nel suo stato naturale c'è una delibera del maggio di quest'anno che prevede i tratti ben specifici di spiaggia libera che non possono essere dati in concessione per cui contro una delibera che fa legge è impossibile aspettarsi che venga derogato questo in funzione di altre concessioni ed ora diamo spazio alle vostre segnalazioni nei giorni scorsi ci sono arrivate in redazione alcune fotografie di calcinacci e controsoffitti ritrovate a terra al cimitero centrale di Fano e così siamo andati a vedere e a capire che cosa era successo Filippo Pucci si era pensato al peggio nei giorni scorsi quando in una parte dei loculi esterni del cimitero centrale di Fano si sono notati a terra numerosi pezzi di calcinacci e in tonaco ma ancora più preoccupante è stato sicuramente un grosso pezzo del soffitto ritrovato nel pavimento che come ci dicono si era staccato dalla parte alta e ha messo così in allarme chi frequenta il posto ma niente di tutto questo la settimana scorsa una ditta incaricata dal comune di Fano ha effettuato delle verifiche per controllare la staticità della struttura sia nella parte delle colonne portanti dove si sono notate delle piccole crepe che dalla parte del soffitto smontando un quadro in gesso e transennando in sicurezza l'area pedonale davanti ai loculi questa mattina invece lavori in corso per la sistemazione delle parti pericolanti con il montaggio di un'impalcatura i lavori avranno la durata di alcuni giorni nel frattempo l'amministrazione e i tecnici del comune stanno già pensando ad un intervento più complesso per il cimitero in stretta collaborazione con la soprintendenza visto che il cimitero centrale è un bene tutelato e adesso invece parliamo del turismo della Movida la cosiddetta Movida notturna anche a Fano perché si cerca di ripartire ma di ripartire con cautela in particolare i locali e i gestori cercano di tornare nel pieno delle attività anche se va detto i fatti recenti di Monte Copiolo sicuramente non aiutano Secondo l'ufficio Sudi Fipe Federazione Italiana Pubblici Esercizi per l'82,4% dei viaggiatori il ruolo la presenza di discoteche e locali notturni è infatti centrale nella scelta della destinazione anzi nella classifica dei 10 aspetti ritenuti più importanti di un soggiorno l'offerta di intrattenimento è al terzo posto subito dopo l'ospitalità e quella della tavola riferisce lo studio e i clienti non residenti nei luoghi in cui sorgono i locali contribuiscono per circa il 60% al fatturato di questi esercizi ma l'economia della notte non è solo discoteca ci sono anche e pesano in maniera rilevante bar, ristoranti e locali pubblici aperti nelle ore notturne ad oggi la situazione che vivono economicamente i locali così come altri settori dopo la fine dell'emergenza sanitaria del covid è complicata l'economia dei locali oggi è ripartita no sicuramente in maniera molto inferiore rispetto agli scorsi anni a parte locali come il nostro perché noi in questo momento per i problemi di assembramento cerchiamo di fare di stare molto attenti durante le serate quando facciamo della musica che comunque noi organizziamo serate diverse dagli anni scorsi abbiamo molti meno clienti che vengono da fuori perché facciamo anche molta meno pubblicità spingiamo meno le serate che facciamo qualche tipo di locale ne ha giovato di questa cosa perché locali come il nostro e pochi altri che avevano il pubblico spettacolo e quindi che potevano fare discoteca in questo momento non lo fanno e quindi gli altri locali della zona che invece erano prettamente bar probabilmente ne hanno giovato con il cessare del lockdown i locali pur cercando di rispettare le norme di sicurezza anticontagio cercano di tornare nel pieno delle attività così come la movida serale che anche a Fano riparte dai locali delle spiagge più in voga dai giovani in piena stagione estiva dopo anni in cui facevamo organizzavamo feste ed eventi ci siamo rinventati con un nuovo tipo di ristorazione molto più curata e diversa da quella che facevamo agli anni scorsi si contano presenze turistiche durante le serate ma allora diciamo che i nostri turisti i nostri clienti affezionati stranieri ci sono sono tornati anche se da poco e poi il nostro è un turismo con la spiaggia libera è un turismo molto pendolare abbiamo tantissimi clienti che vengono dall'entroterra dalla vicina Umbria e quelli continuano tuttora ad esserci e adesso andiamo a Pesaro invece dove i commercianti di Via Curiel in collaborazione con il Comune hanno installato una serie di ombrelli multicolori come arredo urbano della Via ad annunciare la nuova installazione è stato il primo cittadino Matteo Ricci soddisfatto del progetto volto a rendere più bello il centro storico dopo le precedenti lanterne restiamo a Pesaro per farvi vedere l'arrivo di Matteo Salvini che è tornato nelle Marche e che qualche giorno fa appunto si è intrattenuto con i pesaresi vedo l'ora che arrivi settembre perché le Marche dal lavoro nelle Marche dal lavoro e dalle infrastrutture perché c'è una regione bloccata da troppi ritardi da troppa burocrazia Matteo Salvini è tornato nuovamente nelle Marche la tappa scelta è stata a Pesaro il segretario della Lega è stato accolto dagli applausi di qualche centinaio di sostenitori diversi i temi affrontati dall'ex ministro dell'interno tra cui in primis il tema legato alle imminenti elezioni regionali in programma a settembre le Marche dice Salvini hanno bisogno di lavoro e non di assistenza l'impegno è di far lavorare la gente partite IVA artigiani autonomi commercianti piccoli imprenditori e pescatori su questa ultima categoria il segretario si è soffermato sulle vicende che hanno coinvolto i pescatori marchigiani a partire dal fermo pesca poi un focus sulle infrastrutture ci vuole troppo tempo per attraversarla dice i fini turistici strade a senso unico rimarca gallerie viadotti interrotti e poi rivolge un appello alla regione a occuparsi di queste opere incomplete e non di occuparsi di filosofia sull'Europa invece il segretario afferma si è festeggiato per una settimana perché l'Europa forse darà un prestito l'anno prossimo i soldi del recovery fund arriveranno infatti solo nelle migliori previsioni nell'estate 2021 il problema che ha sottolineato è che c'è ancora gente che non ha ricevuto la cassa integrazione di maggio e aprile inoltre fa sapere Salvini che da settembre partiranno 12 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia infine un appello rivolto ai presenti la Lega proporrà in Parlamento saldo e stralcio pace fiscale a zerare le cartelle per una pace sociale sul tema dell'accoglienza il problema dice non è l'immigrazione né il colore della pelle un'immigrazione controllata limitata e qualificata rappresenta per Salvini un valore positivo noi conclude abbiamo bisogno di turisti paganti non pagati lo slogan prima gli italiani per la Lega verrà applicato anche per le case popolari in questo momento storico persevera il leader l'Italia è piena di italiani che non ce la fanno e i soldi pubblici vanno dati a loro viva Pesaro viva le Marche viva la Lega e viva l'Italia e la libertà grazie di quello e prima di chiudere il nostro telegiornale facciamo gli auguri aprendo il nostro album di famiglia gli auguri a due persone che sicuramente in tantissimi di voi parlo di quelli che ci seguono ovviamente dalla provincia di Peservino conosceranno sono gli storici benzinai di Lucrezia ovvero Franco Peretti e Fiorella del Vecchio conosciuti appunto come storici benzinai di Lucrezia i quali hanno festeggiato nella giornata di ieri 50 anni di matrimonio dunque le nozze d'oro a loro gli auguri da parte dei figli dei nipoti insomma di tutti i parenti e naturalmente anche da parte di tutta la redazione di Fano TV redazione che vi ringrazia per essere stati con noi per aver seguito il nostro telegiornale l'informazione torna domani mattina alle 7 in punto con la rassegna stampa arrivederci grazie a tutti grazie a tutti